Si può definire Dante un teologo? E se lo fu, a quale scuola teologica medievale appartenne? O per lui possiamo parlare di una teologia personale dove ragione e fede stanno in dialogo al centro di ogni lettura esegetica possibile? L'alta fantasia è la teologia poetica di Dante, la cifra della sua eccellenza rispetto alla scolastica medievale, la terza teologia tra platonismo monastico e aristotelismo universitario. Una teologia laica trasversale alle diverse correnti dell'epoca soprattutto è l'inversione di tendenza rispetto al pregiudizio degli accademici del medioevo più maturo per i quali la verità è difficile molto più che bella, ragion per cui la poesia non sarebbe all'altezza di occuparsene. L'alta fantasia è in tal senso l'estremo tentativo di evitare il divorzio tra ragione e fede, tra mente e cuore, tra verità e bellezza, fra teologia e messaggio biblico. L'alta fantasia è il titolo emblematico del nuovo volume di Massimo Naro preso dal verso 142 del 33esimo canto del paradiso. Docente di teologia da tempo dedito all'approfondimento del rapporto tra letteratura e teologia, nel suo alta fantasia l'altra teologia di Dante Ligieri pubblicato con Scolè, marchio di Morcelliana, Naro rilegge qui la commedia raccogliendo il suggerimento di Elliot che invitava a partire nella rilettura del testo dall'ultimo canto della terza cantica e ovviamente passando attraverso i canti del Purgatorio. L'esito è in questo volume che riflette sui versi danteschi e va oltre, è un volume che viene pubblicato in collaborazione con la società Dante Ligieri, il cui presidente Andrea Riccardi firma la prefazione osservando che l'autore condensa un lievitare di pensiero originale portando il discorso dall'itinerarium mentis in deum a sviluppi nuovi nel contesto storico esergetico della divina commedia, manifestando dunque l'attenzione ai suggestivi disegni anche del maestro Ernesto Lamagna che corredano queste pagine. Un saggio denso che scandaglia il pensiero del sommo poeta fra problemi estetici in cui poi vengono esaltati il fuoco dell'amor divino che i poeti dal canto loro secolarizzavano in amor cortese. Un viaggio dentro un capolavoro eterno che porta il lucido approfondimento di Naro nella parte conclusiva a condividere la tesi del grande romano Guardini, la fine della divina commedia e la visione e la comprensione non di Dio ma del figlio di Dio divenuto uomo e a partire da lui del mondo.